Oggi in conferenza capigruppo i cittadini del Campasso sono stati ascoltati anche dal sindaco. Che cosa è emerso da questo incontro e che cosa chiedevate? Chiedevamo ovviamente una maggiore attenzione sulla nostra zona, sul Campasso, che ha delle forti difficoltà ovviamente in ragione del lavoro, della ricostruzione, del cantiere che c'è per la ricostruzione del ponte. Ovviamente siamo stati ascoltati, ci hanno rimandato alla fine del Consiglio quando noi credevamo di poter intervenire durante, anche perché abbiamo dovuto tenere 20 cittadini qui che magari avevano anche da fare eccetera, però c'è stata comunque la volontà di ascoltare. C'è stato un incontro abbastanza chiarificatore su certi punti, altri rimangono ancora un pochettino da capire, da comprendere. Avete consegnato anche qualche documento al sindaco, qualcosa di specifico? Al momento abbiamo mostrato delle foto che fanno vedere la situazione attuale del Campasso e soprattutto anche determinati palazzi che sono rimasti fuori dalle zone interferite e quindi non hanno neanche un piccolo beneficio economico per la situazione che stanno affrontando, ma che hanno le problematiche identiche ad alcuni che invece hanno preso questi rimborsi. E si parla di polveri, si parla di rumore, di cose? Allora la polvere è ormai una questione che va avanti da cinque anni prima per i motivi legati allo smarino, adesso per i motivi nuovi del ponte e degli altri detriti che stanno comunque trascortando lì. E poi il rumore, il rumore adesso è la problematica più impellente, comunque che va risolta al più presto perché ci sono dei cittadini che stanno andando in sofferenza abitando proprio sul cantiere e non dormono, ci sono persone che non riescono a riposare e non se ne possono comunque andare perché ricordiamo che comunque viviamo al Campasso, non è nervi, non è che le persone hanno tutte queste risorse economiche per dire vabbè me ne vado in affitto, quindi ci sono persone che sono sul cantiere. Vi è stata prospettata già qualche soluzione oppure un altro incontro? Allora intanto comunque si è data disponibilità eventualmente per un incontro futuro, come soluzioni la cosa più interessante è stata quella sullo smaltimento dei rifiuti, dei detriti, scusate, quelli legati al ponte, non lo smarino che è una partita a parte con RFI. A quanto pare entro 24 mesi questi detriti andranno smaltiti del tutto e quindi entro 24 mesi sicuramente si dovranno spostare da lì, già almeno abbiamo una data. 24 mesi lo smaltimento quindi si presuppone che da lì vadano via prima. Questo noi ce lo marchiamo come facciamo sempre, tutte le volte che incontriamo il sindaco segniamo e poi vediamo un pochettino working in progress come stanno andando le cose perché oggettivamente la situazione ora ci ridiamo un po' sopra però ci sono tanti cittadini che stanno andando in sofferenza, in più abbiamo e questo anche sotto consiglio oggi del sindaco una problematica interna con il comitato del quartiere che non sta in questo momento rappresentando troppo gran parte della cittadinanza, il sindaco ci ha consigliato di farne un altro e vedremo se ce lo consiglia lui, evidentemente è necessario. Per il rumore invece che cosa vi ha detto? Sui rumori, allora intanto noi abbiamo richiesto come mai hanno tolto una centralina di segnalazione non l'abbiamo più vista e era praticamente collocata ridosso del cantiere in via Campasso sotto non essendoci più ci siamo un attimo allertati, sicuramente è stato sforato e lo ha messo anche lui per ben quattro volte durante la fase quella calda per riaprire via Porro ora ci ha richiesto un po' di pazienza. Per la movimentazione delle macerie quindi? Sì e anche per i trappanamenti vari, anche notturni e ora comunque ci sarà di nuovo questa tirata per riaprire via Filla che è entro il 16 e ci ha richiesto un po' di pazienza quindi in poche parole si sfora il rumore non c'è poco da fare, più o meno volte il discorso è che anche quando non si sfora se è un rumore costante magari non ha dei picchi in alto ma quando uno si sveglia poi magari alle 4 e mezza del mattino ti svegli Sì, la qualità della vita ne risente Esatto, esattamente quello Poi alla fine noi stiamo facendo questo discorso perché il nostro volere è quello che il ponte ci sia il più presto possibile anche perché finirebbero le nostre tribolazioni Aspettiamo il nuovo comitato Aspettiamo il nuovo comitato Questo pomeriggio, Giugnone Capigruppo, avete incontrato il sindaco come cittadini del Campasso qual è stata la sua impressione? Guarda, innanzitutto sono felice che siamo stati incontrati Ci hanno un attimo fatto soffrire in Consiglio Comunale perché abbiamo un attimo agitato il Consiglio Finalmente però al termine ci hanno ricevuto abbiamo potuto esporre le nostre problematiche che ormai portiamo avanti da mesi quindi il rumore di notte Sì, già dal flash mob sulla polvere ad esempio Dalla polvere, dai cumuli di detriti che abbiamo davanti alle finestre e che non vengono costantemente bagnati meno male che gli ultimi due giorni ha piovuto abbiamo visto finalmente la prima bagnatura completa e poi al rumore di notte che noi abbiamo sopportato fino ad oggi ma perché sappiamo cosa devono costruire e com'è importante il nuovo ponte Soprattutto anche per la riapertura di via Porro Esattamente, però ci sono dei limiti perché secondo me bisogna comunque portare a riposare le persone perché io penso a un camionista, a un autista di pullman, a un carpintiere che non ha dormito tutta la notte, non ha fatto le sue ore di riposo Cosa può capitare la mattina? Perché alla fine dobbiamo sì portare avanti questo cantiere ma dobbiamo farlo rendendo vivibile e dignitosa la vita dei cittadini che ci sono al fianco Però mi sa che dovrete avere ancora un po' di pazienza per la riapertura di via Fillac ad esempio Ha detto il sindaco che si aspetta la riapertura il 16 settembre quindi da quanto abbiamo capito i rumori proseguiranno fino a quel giorno perché se stanno lavorando in quella zona sicuramente dovremo tenerceli Mi è dispiaciuto non trovare un punto su cui condividere la questione Abbiamo proposto anche nel documento che vi han dato che facciano i lavori pesanti tra le 19 che è l'orario dove di solito loro staccano fino alle 24 dove invece loro riattaccano fino alle 6 del mattino anche perché cingolati, camion che scaricano merci, martelli pneumatici durante l'orario notturno veramente sono pastidiosi per chi purtroppo deve andare a riposare Lei abita al Campasso, com'è la vita? È bruttissima, di notte non si dorme, proprio assolutamente niente Io mi alzo alle 4 e mezza del mattino e mi addormento quando sono alle 4 perché fanno un rumore proprio E con le finestre chiuse, si sente tantissimo Poi abbiamo problemi di polveri, non bagnano quasi mai Tra l'altro voi avete subito anche i cumuli dello smarino? Sì, io non direttamente però palazzi vicino al mio loro hanno lo smarino da 5 anni davanti alle finestre Quindi la pazienza sta finendo? Eh sì, adesso è finita la pazienza, veramente Adesso non ce la facciamo proprio più Ora il sindaco deve fare qualcosa Lui stasera ci ha fatto delle belle promesse ma speriamo che le mantengano perché sennò qua non ci siamo proprio Non ce la facciamo più Grazie a tutti Grazie a tutti